Dopo 12 anni la squadra del Partinico Audace cambia denominazione e vertici. Cambia la denominazione e il Partinico Audace è stato sempre Partinico Audace. Due anni fa avevamo fatto questa variazione di denominazione pensando che Borgetto ci poteva dare una mano sotto l'aspetto dello stadio, del campo, però poi ci siamo accorti che non era possibile. Quest'anno siamo ritornati alle vecchie, gloriose parole ASD Partinico Audace. La novità è che dopo 12 anni Marcello Lombardo ha ceduto la presidenza alla dottoressa Antonina Tradicelli, un'imprenditrice palermitana che ha uno spirito così combattivo dal punto di vista anche calcistico, perché già lei non voleva iscrivere la squadra in pomozione, bensì in eccellenza, anche perché avevamo i requisiti per poterlo fare. Poi nella struttura societaria ci sono una serie di nominativi nuovi che c'è il signor Caruso, Andrea che nasce dalla fusione dello Sporting, Giambi Sporting, una squadra di calci a 5 che milita quest'anno nel campionato di Serie C. Poi c'è il signor Pietrega che è il nostro segretario, Marcello Lombardo rimane all'interno della società come direttore sportivo. Poi c'è il signor Pietrega, l'ho detto, come segretario e poi una serie di dirigenti che sono il signor Italiano, il signor Palazzolo, il signor Cinque Mani che è un acquisto importante per la storia calcistica che partiene con Ripeste, il signor Sicula. Abbiamo rinnovato tutti i vertici societari e adesso passiamo agli incarichi specifici. Ah, dimenticavo il nostro addetto marketing e pubblicità, il signor Alessio Di Trapani, che sta curando tutto l'aspetto di marketing e di loghi per quanto riguarda la società dell'Asia di Partini Caudaci. Quando inizierà di nuovo il campionato? Il campionato inizia alla fine di settembre, però ad agosto molto probabilmente ci sarà la Coppa Italia. Da donna imprenditrice a presidente del Partini Caudaci, cosa significa per lei? Allora, per me è molto importante perché io credo nei miei obiettivi, come ho creduto sul sociale, credo che il calcio è sociale. Quindi ho accettato questo incarico proprio perché amo fare il mio lavoro e questo per me è un grande, adesso, trampolino di lancio, ma non come persona fisica, perché già io mi sento soddisfatta così, ma per dimostrare al territorio di Partinico che noi donne possiamo fare molto. Sono contenta e spero di non deludere nessuno. Ha già degli obiettivi in mente? Sì, allora, gli obiettivi sono tanti, però ovviamente io sono una donna che va con i piedi di piombo, come in tutte le mie cose. Il mio obiettivo è di portare il Partinico all'eccellenza. Ovviamente già lo avrei fatto da subito, ma mi hanno un po' stoppata perché io vado sempre oltre, quindi mi hanno detto piano pianino. È comunque il mio obiettivo futuro. È la prima volta che una donna ricopre questo incarico. Sicuramente per lei il calcio è anche passione? Allora, io devo dirvi la verità, sì, i miei amici mi hanno fatto amare il calcio, nonché questi amici che oggi sono stati accanto a me, al mio fianco. Io il calcio in sin da piccola l'ho visto così come uno sport di solidarietà, soprattutto anche perché occupandomi appunto di sociale ho capito che il calcio può dare tanto e perché no può dare anche di più. Bisogna solamente cogliere le situazioni giuste. Qual è il suo messaggio ai ragazzi della squadra da presidente? Allora, da presidente dico intanto io spero di non deludervi, perché principalmente è una cosa anche, devo essere anche io non deludere ragazzi. Quindi pretendo molto, perché di sicuro possiamo fare molto di più. Ho fatto una scommessa con me stessa da donna e quindi spero che i ragazzi mi vedano donna, mi vedano un po' fragilina e di sicuro hanno più grinta e saliremo un trampolino in più. Marcello Lombardo, presidente uscente della squadra del Partinico Odace. In conferenza stampa l'abbiamo visto un po' emozionato stasera. Sì, dopo 12 anni credo che l'emozione è d'obbligo. Comunque dico sono stati 12 anni bellissimi perché diciamo abbiamo mantenuto questa società gloriosa, il Partinico Odace, nella categoria diciamo nella promozione. ma per quanto mi riguarda dico che è una categoria che ci sta un po' stretta Partinico, perché Partinico è una piazza di calcio a livello non di promozione ma anche di Serie D. Il suo comunque non è un addio ma continuerà a collaborare all'interno della squadra. No, assolutamente non è un addio perché io senza calcio non lo so, non so vivere. e collaborerò come ho detto in conferenza stampa con il gruppo che si è formato. Sarò presente sempre e comunque come facevo prima negli anni passati. Assessore, l'amministrazione comunale è stasera vicino alla squadra del Partinico Odace. E non solo alla squadra del Partinico Odace calcio, io sono vicino a tutte le discipline che insistono in questa struttura. Stasera sono stato invitato dalla nuova società Partinico Odace, ho saputo di questo avvicendamento alla presidenza dove c'è la dottoressa Radicelli che ha scelto un suo entourage per poter portare nuova linfa a quella che è un campionato molto difficile come quello della promozione. Io mi auguro comunque che con l'entusiasmo che stanno manifestando, credo che il calcio anche quest'anno potrà regalare ai tifosi partinicesi molte soddisfazioni. Assessore, in itinere anche progetti che riguardano il campo sportivo? Sì, diciamo che siamo quasi al compimento della richiesta che abbiamo fatto al credito sportivo per poter fare arrivare a Partinico e presso questo stadio un finanziamento abbastanza cospicuo che permetterà il restyling, non dico definitivo, ma di una bella parte di questa bellissima struttura che tutti ci invidiano. Io credo che prima che finisca quest'anno solare possa arrivare il finanziamento e avere una programmazione per il prossimo anno per cercare di avere appunto per la prossima stagione ancora un campo come tutti desiderano, un campo dove ognuno può avere il suo spazio, i suoi servizi, con l'occhio godere del manto erboso e tutto quello che ne concernerà con l'arrivo appunto del finanziamento. Un grazie sicuramente al capo dell'amministrazione che sta facendo di tutto per fare arrivare appunto questo finanziamento. Quest'anno un'altra novità, il Partinico Odace fa la fusione con un'altra società. Sì, abbiamo fatto questa fusione con la Jump Sporting, della quale io ero il presidente. Abbiamo voluto fare questa fusione perché la realtà del Partinico Odace è comunque una realtà importante qua nel nostro territorio. L'anno scorso noi abbiamo vinto il campionato di Serie D, calcio a 5. I ragazzi erano tutti i ragazzi di Partinico, anche i dirigenti. Solo io ero di Giardinello. Ora ci apprestiamo a fare questo campionato di Serie C2, sempre di calcio a 5, però con la novità che siamo Partinico Odace, non siamo più Jump Sporting. Per me è un orgoglio e un onore far parte di questa nuova società. Conosco tutti qua i ragazzi e quando ci siamo parlati un attimo per fare questa fusione non se lo sono fatto dire nel mezzavolta e io neanche un quarto di volta. Quindi speriamo di fare bella figura pure quest'anno come l'anno scorso.